Il Pordenone Blues Festival è uno dei più importanti eventi pordenonesi e non solo che involge la musica, ma consente ad altri tipi di arte, come il teatro, la fotografia, il cinema e l'enogastronomia, di esprimersi con un proprio punto di vista interpretativo, così da sollecitare la fantasia dei partecipanti, valorizzare le tipicità locali, promuovere un dialogo interculturale. Quest'anno abbiamo lavorato sul casting perché vogliamo portare un casting veramente elevato, anzi portiamo un casting molto elevato, è di portata internazionale, in Italia appunto ci saranno ben pochi festival che si porteranno artisti di questa elevatura. Nomino solo alcuni artisti che è buono al Teatro Verdi, siamo gemellati da quest'anno con Porretta Soul Festival, portiamo la Bay Paul Orchestra, un'orchestra di 14 elementi, tutti con almeno un Grammy in piazza 20 settembre e poi discorrendo abbiamo veramente tantissimi altri artisti tutti i giorni, quindi dico solo venite a trovarci. Sette indimenticabili giornate ricche di appuntamenti ed emozioni che costituiscono un evento ormai atteso e amato da tutti. È una grande manifestazione, ormai era partita come una piccola iniziativa e invece ormai è arrivata ad essere una delle più importanti manifestazioni musicali, culturali, turistiche del nostro territorio. Io faccio i complimenti a Mizzau e al suo staff perché? Perché è riuscito a creare delle grandi relazioni e quindi mettere insieme l'enogastronomia, la scoperta del nostro territorio, la grande qualità musicale. Già quando eravamo in provincia con il progetto Vibrexion abbiamo messo in sicurezza questi grandi festival, sono uno strumento fondamentale per attrarre gente a Pordenone e rivitalizzare anche il nostro commercio, quindi una ricetta assolutamente di grande qualità.